Anche voi come me avete provato diversi prodotti per pulire il vostro pavimento, ma il risultato non vi ha mai soddisfatto? Marbeck è la soluzione. Io per il mio pavimento con grass porcellanato ho scelto questo prodotto, grassbrill, che è un detergente ordinario, igienizzante, disincrostante e concentrata anticalcare. Ma se andate sul loro sito potete trovarne di diversi in base alle vostre esigenze e al vostro pavimento. Amo grassbrill perché non contiene acidi forti ed è molto semplice da utilizzare. Basta diluire circa una tazzina da caffè in 5 litri di acqua. Si applica come normale detergente con un panno in microfibra, asciuga rapidamente senza necessità di risciacquo. In caso di pavimenti molto sporchi e alonati si consiglia previamente di fare una pulizia straordinaria con il prodotto Power Dead diluito al 30% abbinato al tampone blu. Grassbrill è quindi ideale soprattutto per la pulizia giornaliera di grass lucidi, la pati ceramica smaltata. È consigliato in presenza di acqua e calcare poiché impedisce e rallenta la formazione di patini e aloni, mantiene la lucentezza e il colore originale della superficie, può essere usato per lavaggi manuali o con attrezzature e lavapavimenti. Insomma Marbeck ha risolto finalmente i miei problemi. E tu cosa aspetti? Vai sul loro sito e acquista anche tu un prodotto che fa il caso tuo.